Benvenuti a tutti e grazie di essere qui con noi oggi. Prima di tuffarci in questa storia intricata e piena di colpi di scena, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace al video. Questo ci aiuta a crescere e a portarvi sempre più contenuti interessanti e approfonditi. Attivate anche le notifiche per non perdervi nulla delle prossime novità che abbiamo in serbo per voi. La storia che stiamo per esplorare oggi riguarda un mistero che persiste da anni, avvolgendo una famiglia in una lotta incessante per la verità. Al centro di questa vicenda c'è Mario Biondo, un cameraman palermitano la cui vita si è tragicamente conclusa a Madrid il 30 maggio 2013. La sua morte, avvolta in circostanze misteriose, ha scatenato una serie di interrogativi e dubbi, specialmente tra i suoi cari. Santina d'Alessandro, la madre di Mario, si è ritrovata nel mezzo di una tempesta mediatica e giudiziaria da quel fatidico giorno. La sua ricerca di verità e giustizia per il figlio l'ha portata ad affrontare numerosi ostacoli, ma la sua determinazione non ha mai vacillato. Recentemente la signora d'Alessandro ha espresso significative perplessità riguardo a un documentario prodotto da Netflix e dedicato alle ultime ore di vita di suo figlio. Nonostante il documentario, le ultime ore di Mario Biondo, abbia raggiunto un notevole successo sia in Italia che in Spagna, entrando stabilmente nella top ten delle visioni, secondo Santina, il racconto presentato lascia molti interrogativi aperti. La critica principale mossa dalla signora d'Alessandro riguarda l'approccio unilaterale del documentario. Tu non puoi chiamarlo documentario se parti e vai in una sola direzione, ha affermato in un'intervista a Donna Click. La sua delusione nasce dal fatto che, secondo lei, il documentario non abbia esplorato adeguatamente tutte le facce della storia, trascurando di intervistare figure chiave come la polizia e il medico legale che sono arrivati per primi sulla scena. Il coinvolgimento della famiglia Biondo nel progetto è avvenuto in circostanze che, a posteriori, hanno lasciato un amaro in bocca. La signora d'Alessandro racconta di essere stata contattata tramite WhatsApp da una certa Maria Pulido, che le propose di partecipare a un documentario su Netflix. Con la promessa che la storia sarebbe stata raccontata in maniera equilibrata, coprendo le versioni dei fatti sia italiana che spagnola, Santina si è detta inizialmente speranzosa. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Dopo aver accettato e inviato documenti e perizie di parte al team di produzione, la famiglia Biondo ha scoperto che, dietro il progetto, c'era un nome che avrebbe immediatamente sollevato sospetti. Guglielmo Gomez Sanka, legato a Marghera Film, una società dietro la quale si celava il manager di un personaggio noto, Miguel Sanchez. Questa scoperta è stata fatta grazie alle indagini di Oscar Tarruella, un criminalista che ha notato come il suo biglietto da Barcellona a Madrid fosse stato pagato proprio da Marghera Film. «Non avrei mai dato il mio consenso sapendo che dietro c'era Guglielmo Gomez Sanka», ha dichiarato la signora d'Alessandro, evidenziando un senso di tradimento e manipolazione. La convinzione della famiglia che Mario non si sia tolto la vita, ma che la verità sia ben più complessa e oscura, rimane ferma e inossidabile. In questo lungo e tortuoso percorso alla ricerca di giustizia, la determinazione di una madre nel difendere la memoria del figlio ci offre una storia di coraggio e perseveranza. «Mio figlio non si è ucciso e combatterò ancora per la verità», queste le parole di Santina d'Alessandro che risuonano come un impegno incrollabile verso suo figlio e verso la lotta che porta avanti da anni. Ora vi chiediamo, cosa ne pensate di questa incredibile storia? La vicenda di Mario Biondo e della sua famiglia vi colpisce? Scrivete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. La vostra interazione è fondamentale per noi e per continuare a indagare e raccontare storie che meritano di essere ascoltate. Grazie per aver dedicato il vostro tempo a questa storia e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi video. A presto!